Buon complanno Federico Bonazzoli, lo sai che è un traguardo importante quello dei 18? Sì, 18 anni oggi però non penso che cambi niente. Vabbè, un traguardo importante, basta, un giorno importante, speciale. Mi dispiace, va bene, non essere con la mia famiglia, i miei amici, però avrò l'occasione di vederli, quindi va bene. Non si cambia, cioè non è che uno compie 18 e si sente diverso. Se non altro, hai la possibilità di essere un po' più indipendente a livello di auto. Quello sì, ci hai pensato immagino. Sì, esatto. Diciamo che l'unica cosa che manca è essere un po' indipendente e arrangiarmi un po', visto che ho fatto fare tanti sacrifici ai miei genitori, quindi adesso mi arrangierò da solo. Quindi adesso testa che va un po' sui libri, oltre che ovviamente sul calcio. Esatto, sia su quelli di scuola ma anche quelli della potente. Hai fatto tanti anni all'Inter, perché avresti mai pensato di raggiungere i 18 anni ancora con la maglia nero-azzura, visto che sei arrivato che eri piccolissimo. No, ci sono stato dentro di un mese, se no non ci stavano neanche dentro. Sicuramente è tanto che sono qua, sono ormai 11-12 anni, sono felice, ho postato degli anni bellissimi. Sono contento che nel giorno del mio compleanno sono qui ad Appiano, ho visto tante persone che lavorano tutti i giorni con me, quindi sono felice di trascorrere un po' del mio tempo anche con loro. C'è un messaggio che ti è piaciuto in particolar modo, un augurio magari di un tuo compagno di squadra, ti hanno fatto battute, perché comunque sei il più piccolino, sei anche quello un pochettino più coccolato, devo dire. Però c'è qualcuno che ti ha fatto la battuta, tanto non li dimostri, figurati, io quando avevo 18 anni ero più, non lo so, avevo più successo. No. Tutti carini? Sì, tutti carini. Non ci credo. No, nessuno mi ha preso in giro, sono stati tutti bravi. Va bene, allora Fede ancora auguri, non festeggiare troppo, anche se so che ai 18 vale la pena festeggiare, perché un po' l'abbiamo fatto tutti. Che cosa vorresti in questo giorno speciale? C'è un augurio personale, particolare che vorresti? No, niente, vorrei trascorrere come tutti gli altri giorni, felice, sereno e basta, va bene così. Va bene, auguri Fede. Grazie. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Interchannel e poi scegli.